Ok ci siamo Anche Apple fa le cazzate Allora Rox Come anche Apple fa le cazzate No allora Sì è un film che non si prende Adesso da Toscano I dialoghi Ma non si prendono sul serio Ma per niente dai Diciamo che Secondo me di Greyman era peggio Quello che sempre con Chris Evans Di Netflix Perché quello lì Questo è divertente Io credo che il punto forte Comunque la chimica fra loro due Perché secondo me loro funzionano bene Bello questa storia Questa sorta di scambio dei ruoli Ovvero diciamo Quello che è lo stereotipo maschile Della gente segreta Lo fa lei E lui è cazzatona Riesce a scrivere Emma? Sì una parola per volta Una parola per volta Sì è una cazzatona Siamo d'accordo Sulla cazzatona siamo d'accordo La vista insieme Potrei essere d'accordo con Passa Ok Sintetizza Passa veloce Sì sono d'accordo Però bello Questo bug di una parola alla volta Mi piace molto Del resto Rox Tu che dici? Eh no Io ho detto È un film divertente È chiaramente Un action di quelli proprio Pesantemente assurdi Che succedono delle cose Dottor Scano diceva Dei dialoghi Qui non hai dialoghi Qui è tutto assurdo Però è un assurdo Fatto talmente Con Eccessivo Ecco con eccesso Che lo puoi passare Lo puoi fare Sì non si prende Non si prende sul serio Naturalmente Non prendendosi sul serio Può fare qualsiasi cosa Cioè la prova Più grande È lui che si getta dall'aereo Con lei Legata con la cinta Non si vede più niente Tre ore dopo Stanno sulla spiaggia Con la tendina Fatta col paracadute Cioè Come ha aperto il paracadute Come ha fatto A te a terrare È incredibile Allora invece di spiegartela Invece di farti Ma tagliano Ti dicono Accettala Stanno sulla spiaggia Va bene così Va bene così È divertente Anche il fatto Che hanno inserito Tutti quei gamei Anche ha reso Il tutto Divertente E Non lo so Perché non è una parodia Ma certamente Come ha detto pure Ivan Non si prendono sul serio No no È una commedia Beh beh Ci sono state altre commedie La cosa carina È che inizia Come commedia romantica E poi a un certo punto Cambia completamente registro Ecco I gamei I gamei top Sì Soprattutto quelli Vabbè Qua Sono tutti amici Il soldato di sverbo Grandioso Ma ormai sono tutti amici Ci sono Tre quarti di Marvel Io vorrei dopo riguardarlo Un attimo Perché secondo me C'era un graffito In quando erano in Pakistan Che secondo me C'era Robert Downey Jr Raffigurato in quel In quel graffito Quando faceva il Il tizio in Tropic Thunder Di Van Stiller Bisogna che ci guardo Però non sono sicuro Non posso In Pakistan In Pakistan Dopo magari ci guardo Però è una cosa da prendere Con le pinze Non Poi dopo magari sotto Nei commenti Per chi guarderà Questo coso Questo Questo coso Questa Recensione Su Youtube Può anche scriverlo Dopo ci guardo bene Perché ho visto Un graffito Con un tizio E sembrava Robert Downey Jr Però non sono sicuro Io non lo escluderei Comunque Non lo escluderei Non lo escluderei Diciamo che Anche Come dicevi anche te Anche Apple Riesce a fare un po' di cazzà Dai Diciamo che ogni tanto Ci sta Ci sta Ma sì Ma certo Ci sta È un film comunque Con un budget importante Perché adesso Non so qual è il budget Perché comunque Ha un budget importante Adesso andiamo a vedere Andrò a vedere Su internet Beh diciamo Che alcuni effetti Come Tutti quegli effetti Con Evans Sono tutti sbagliati Comunque È quello che Budget Non capisco Allora andiamo a vedere Wikipedia Chi si è fatto Gli effetti speciali Quando c'era Evans Non è molto bravo Secondo me Non lo so Allora Release Non lo so Non viene citato Il budget Non viene citato Beh comunque Sia Anna De Armas Che Che Allora De Ghost No Ok Andiamo a vedere MBDB Se mi da un budget Di questo film Non lo vedo Ok No Non riesco a vederlo Probabilmente magari Però io credo che Se Giri L'Apple Non le rivela Tante Però secondo me Un centocinquanta Milione Le hanno spese Questo film Può essere Può essere Perché Comunque Le scene action Ci stanno Gli attori Sono Comunque Di un certo Spessore Non sono Pippo Franco Edwish Fennec Ok Insomma Anna De Armas E Chris Evans Vanno pagati Anche i cameo Vanno pagati Perché secondo me Ryan Reynolds Non va gratis Indubbiamente Però Ryan Reynolds Ogni tanto lo fa L'ha fatto anche In Fast and Furious L'ha fatto anche In Fast and Furious Questo cameo La cazzo di cane Così Che entra 30 secondi Poi se ne va Che fa sempre Lo stesso personaggio E' piaciuto Il personaggio Del tizio in Pakistan Che c'è Senza la maga E' morto Come un critico Tutti fidanzati Di lei Nel contempo Dietro a Questa cazzatona C'è comunque Una ponderazione Dietro a questa Sceneggiatura Anche lui Che combatte Utilizzando solo Mossi di wrestling Perché lui ha fatto Wrestling E lui sa fare Solo quello E' geniale Cioè se tu ci pensi Un film Cito un'altra Casa di produzione A caso Che magari Con la sceneggiatura Non è il top Prime Avrebbe fatto Avrebbe detto Ok Avrebbe inserito Sì questo fatto Avresti Poi avrebbe menato Come un fabbro Invece questo E' proprio scemo A menare E' proprio impazzato Ma poi quando dice Sì la so usare E poi non riesce A sparare Emma ha scritto Una frase completa My cameo Virgola Sono durati Mezzo secondo Sì Credo che abbiano Speso tantissimo Magari sono anche Dati gratis Sì Ce l'hai fatta Emma Hai finito il bug Magari È una questione Di OBS Non credo Che sia una questione Di OBS Anche perché Il Dottor Scano Riusciva a scrivere bene È proprio un bug Dalla piattaforma Sì sì Dipende da Dall'utente Però per esempio Non so se voi Avete mai visto True Lies Che è un film Di qualche anno fa Che è pure Quello È carino Non si prendono Cioè È irreale È impossibile Dialoghi assurdi Però è divertentissimo True Lies No Mi sa che non l'avete mai Visto No io mi sto confondendo Quello con Schwarzenegger È True Lies C'è Schwarzenegger E Jamie Lee Curtis Eh infatti stavo dicendo Jamie Lee Curtis E c'è Schwarzenegger Sì 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 Quello è quello Finito a True Lies Ok secondo me Ha finito di scrivere Ammanatole Modicon Emma Sì Diciamo che sono film Abbastanza È su quel tono lì Come ti posso dire Che è divertente Se ci penso Se ci penso Se penso anche A un Mission Impossible Anche Mission Impossible Alla fine Mission Impossible Forse è un pochino più È chiaro che pure Quello è assurdo Però già si prendono Un pochino più Sul serio Capito Sì Secondo me The Grey Man Si prendeva molto più Sul serio Sì Perché aveva comunque Ryan Gosling Ryan Gosling Non è un attore Adesso poi lo vedremo In Barbie Portato alla commedia Tra virgolette Potrebbe anche essere Potrebbe ritirare fuori Un talento nascosto Però c'è sempre Quella buona espressione Ryan Gosling E quello che fa Che fa quello Perché va quello Ok E quindi Secondo me Chris Evans Invece Alla commedia Secondo me Ci sta tantissimo Anche lui In The Grey Man Che faceva il villain Quello con i baffetti Era quello che Diceva Cazzate Forse era la parte migliore Quello di Chris Evans Eh Del film Perché era quello Che diceva cazzate Sborzava un po' La tensione Anche se era il villain Qua Qua il co-protagonista Eh La dura è lei Eh Però anche lui Anche qua Sborza la tensione Fa cazzate Eh Fa minchiate Fa cose assurde Secondo me Eh Cioè Noi siamo abituati A vedere Chris Evans Con lo scudo Che mena come Un fabbro Eh Fare la parte un po' Dello scemo Secondo me Lui ci sta Secondo me Lui la fa bene Io ho visto anche In altri film Chris Evans È bravo Non è male Insomma Sì Forse è un po' Troppo bello Quello è il problema D'era È belloccio Sì Però in un ruolo così È fantastico E se ti ricordi In Knives Out C'è lui Che Anna De Armas Comunque avevano C'era questo bel feeling Ok Sì Che c'era già notato In Knives Out E anche lì Il suo personaggio Ogni tanto Buttava lì Anna qualche battuta Infatti dopo È stato comunque Un grandissimo successo E Chris Evans Comunque è stato alloggiato Io vedo che comunque Forse è uno dei pochi attori Spostatosi dal Marvel Cinematic Universe Che è riuscito a tirarsi Una sua dimensione Secondo me Robert Downey Jr. Ancora fatica Bisogna vedere I prodotti E CBO Bisogna vedere Un attimo Però secondo me Chris Evans È riuscito A traslare Perfettamente Comunque Passare dal ruolo Di supereroe Marvel O comunque Ruolo di Capitano America Comunque Può spaziare Su più ruoli Lo stesso Ha fatto anche Chris Hemsworth Però Chris Hemsworth Al momento È ancora dentro E se tu ci fai caso E se voi ci fate caso Chris Hemsworth Ha cambiato Comunque Tono Cioè È partito Con un Tono E Tipo Ghostbusters Aveva questo ruolo Ghostbusters A femminile Che Invito a non recuperare Non A recuperare Non recuperare Aveva questo ruolo Da Da sfigato Da cazzone E da Stralunato È un po' quello che sta facendo in Thor Più moderato Perché in Ghostbusters Era veramente Molto calcato Più moderato Però Cioè Chris Hemsworth Anche lui Ha portato molto la comedia Secondo me Una volta Svestiti i panni di Thor Anche lui Riuscirà A districarsi bene Fra i ruoli E potrebbe Riuscire a gestirsi bene Forse Forse Chris Hemsworth È un tantinello Più bravo Da un punto di vista Recitativo Recitativo Sì Però Però Anche Chris Insomma Anche l'altro Chris Probabilmente Riuscirà A fare A fare Una sua carriera Robert Downey Jr. Si è dato l'autorialità E per me Ha fatto bene Non dove Dove essere più graduale Secondo me Magari Qualche film Più divertente Ma Meno Improvato Allora Lui è finito Lui è finito E si è buttato su Doolittle E secondo me Doolittle Non è stato Doolittle Secondo me Non è stato Il progetto giusto Io ce l'avrei visto Come villain Cioè se lui Robert Downey Jr. Facceva un villain Come ha fatto Chris Evans Con Greyman Un villain Magari atipico Magari Sbruffoncello Come era Tony Stark Allora secondo me Riusciva A aggiustrarsi meglio Fare il protagonista Finito Finito Endgame Ha fatto pure Una serie Come Inventing Cioè Defending Jacob Sempre su Apple TV Plus Che è una signora serie Molto Molto bella Lui molto bravo Cioè Seppure Downey Jr. Per esempio Avrebbe potuto Fare una serie Doveva reinventarsi Qualche cosa Adesso lo vedremo Comunque Robert Downey Jr. Lo vedremo in Openheimer Vediamo un attimo Cosa farà L'altro lato È Anna De Armas Anna De Armas Si è dimostrata Comunque un'attrice Dove la metti Sta Perché ha fatto Il ruolo Un ruolo Non particolarmente Impegnativo Ma comunque Recitato bene Come in Knives Out Che l'avevo citato Ha fatto un ruolo Eccezionale in Blonde Perché secondo me Anna De Armas È stato il punto Forte di Blonde Perché lei Ha veramente Ha veramente Studiato Entrato nella parte La puoi mettere A fare Anche in questo ruolo È bravissimo La puoi mettere A fare l'action Aveva già dato Aveva già dato Un po' Aveva già preimpastato Ecco diciamo In In No Time To Die 007 Che io l'ho visto Tu non l'hai visto No Time To Die No No Io ho visto No Time To Die L'ho visto al cinema No Time To Die E Vedi Io Eh Lì Faceva un ruolo Da agente segreto Anche lì Però era più goffa Più goffa Le prime armi Cazzona Cazzuta Ma La vedi più goffa Qua invece La vedi proprio Calata perfettamente Nel ruolo Assolutamente E Come ho già detto Tu dove la metti Sta Sta Perché Lei secondo me Sa fare tutto Ha fatto horror Ha fatto horror Film indipendenti Ha fatto Commedia Ha fatto film drammatici Ha fatto anche Deepwater Deepwater Tu l'hai visto Rox? No Non hai visto manco quello Sì No 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 Mi sa di no Quello con Ben Affleck Sì sì L'ho visto Sì 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 Quello con Ben Affleck Ecco Diciamo che Più Vabbè Il film è abbastanza discutibile E brutto Forse uno dei più brutti film dell'anno scorso Però diciamo che Lei Seppur abbia una sceneggiatura brutta Una scrittura brutta Lei comunque Anche in un ruolo drammatico Particolarmente drammatico Perché anche Lei doveva scoprire Se il marito Uccideva i suoi spasimanti Lei era abbastanza Particolare Come donna Spasimanti Barra amanti Perché lei era molto Libertina Faceva un ruolo Molto particolare E Lei secondo me Anche nel ruolo Di attrice drammatica Ci sta Secondo me Lei può fare tutto No è brava È brava Blondo Comunque L'ha dimostrato E comunque Sempre per parlare del film Che abbiamo appena visto Dobbiamo sempre ricordare Che quel tipo di ruolo Non lo danno Spessa A una donna No 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 Quello è un ruolo maschile Cioè Riflettiamo un attimo Su questo Perché Anche perché Ci vuole Sì Bello Ghost A parte il titolo Che secondo me Ghosted È bellissimo Cioè Ghosted pensavi È un film Sui fantasmi Vediamo i fantasmi Ghosted È proprio È un termine Giovane È bello Mi è piaciuto Anche la scelta del titolo Del resto Comunque il film Però Se ci pensiamo Questo ruolo invertito Ha funzionato bene Secondo me Ha funzionato bene E poi Ovviamente Budget a parte Perché adesso Non lo sappiamo il budget Il film È Apple ha detto Aggiungiamo un film Un genere diverso Magari dal solito Genere drammatico Dal solito Mystery Perché Punta anche molto sul mystery Al drammatico Alla commedia Particolare Tipo Tipo Tetris Comunque Alla fine 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 È una Una commedia È molto 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 Particolare Però resta pur sempre Una commedia E secondo me Questo Action comedy Alla fine ci sta Secondo me È fatto bene Ne abbiamo visti di meglio Di action Sicuramente Di peggio Tipo Green Man Ma anche gli stessi Fast and Furious Gli stessi Fast and Furious Prendono molto sul serio Io non posso giudicare Perché non Non li ho mai visti Quindi dite voi Che li avete visti Fast and Furious Se sono meglio Peggio Non lo so Però dai promuoviamo Ci sta dai Ci sta Ci sta E come diceva Emma prima Se la guardiamo in compagnia Lo guardiamo insieme Passa bene Questo è un film da vedere Da vedere in questo modo Oppure anche da solo Ma una serata Che tu dici Vabbè mi vedo una cosa Per svagarmi E sta così Col cervello spento Per un paio d'ore Ma va bene Ogni tanto bisogna Fa pure questo Assolutamente sì Vuoi dire ancora qualcosa Rox? No A parte la CGI Che nel green screen Si vedeva abbastanza E poi la cosa strana È che sempre Sulle scene con Evans Non capisco Perché le altre Erano meno evidenti Secondo me Vedete che lui Non viene praticamente bene Dietro un green screen Ma può darsi Può essere questo qua Ciao 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 Grazie a tutti